Inaugurato oggi a Palermo, un nuovo centro comunale di raccolta dei rifiuti, il Minutilla La Malfa, nella zona appunto di Via Ugo La Malfa, e sarà aperta al pubblico mercoledì. Presenti alla cerimonia tra gli altri, il sindaco di Palermo, Leoluc Orlando, e il presidente della RAP, Giuseppe Norata. Un progetto condiviso con l'amministrazione comunale, un'altra apertura che tenta di ristribuire i centri raccolte in maniera equa nelle varie zone di Palermo in attesa dell'avvio di altre due strutture previste in città. Palermo ha una percentuale di riciclo dei rifiuti intorno al 20%, molto all'isotto delle grandi città italiane. Urge non solo l'inaugurazione di nuovi centri, ma una serie raccolta del porta a porta, controlli da parte delle autorità e soprattutto una nuova consapevolezza da parte dei cittadini. I lavoratori, ovviamente la dirigenza, il consiglio dell'amministrazione, il suo presidente, l'apprezzamento particolare all'assessore marino che gioca in casa. Diciamo, si è spostato rispetto alla stanza di Paolo di Palermo. Grazie. 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 Grazie.